Allora avete sentito giustamente, qua intervengo io con un negno, non con la legge, perché probabilmente ha ragione l'avvocato Mauro, non si poteva fare, però la somma urgenza, allora quando in un comune a un certo punto ti trovi che ti esce la melma dalla fognatura a Marina di Ragusa, che fai d'estate? Chiami l'imblea acqua e ti dice ah ma sai non ho i soldi, che facciamo? Ah quando là io vengo, d'altra parte non è un'azienda che se li è sparati i soldi i bleacqua, è iniziato l'altro ieri, ancora devi incassare le bollette per poi pagare, quindi alla fine non mi sembra una follia. L'altra cosa che ha detto Giuffrida è per giustificare anche questo fatto che il Ragusa Calcio, che ieri ha perso, ora la sentirete Gianni Papa, gioca ad Avola, perché? Perché si stanno facendo dei lavori alla tribuna, lavori importanti. Io però mi chiedo, se è un problema di tribuna, non si vorrebbe far giocare facendo entrare la gente nella tribuna B? Che ne dite? Magari si va in tribuna B e che ce n'è tanta, poi 2 mila persone non ci saranno sicuramente. E in questo modo si risolverebbe il problema, perché dicono che finirà a fine ottobre, addirittura la ditta dovrebbe finire a dicembre. Povero Ragusa Calcio, ne ha già tanta la Cina appesa, vabbè comunque dice Giuffrida ci stiamo lavorando. A proposito di ambiente, come vi dicevo prima, siamo nel cuore dell'attività della settimana dell'ambiente voluta fortemente dal Libero Consorzio e un po' tutti si ricordano anche di Salvatore Piazza, dell'ex commissario che da qualche giorno ha lasciato l'incarico per sopravvenute regole regionali. Allora cosa hanno fatto i volontari? Sono stati a cercare un po' di spazzatura, nel passato si sono fatte anche le immersioni, ma oggi il mare non permetteva, ieri il mare non permetteva certo di fare immersione, quindi quello che è stato fatto è stato fatto a terra, guardate, un po' anche preoccupante devo dire il mare, quindi senza dubbio meglio fare attività sulla scogliera nei pressi del porto. Vediamo questo brevissimo servizio.